Allora, Sindaco, l'inaugurazione importante marchiata a Admo ancora una volta qui a Piove. Admo è diventata una realtà importante. Noi come Comune abbiamo concesso non solo il patrocinio, ma stiamo lavorando assieme per far crescere la platea di donatori e per quanto mi riguarda personalmente posso portare anche il contributo come donatore effettivo, una realtà che ho conosciuto, una realtà che veramente può cambiare la vita alle persone, può salvare la vita e quindi credo sia un compito delle istituzioni promuovere questo tipo di iniziativa. Un compleanno un po' particolare, sei venuta qui per festeggiare comunque assieme a questo bellissimo impianto, a tantissimi sportivi e ad Admo. Sì, certo, non potevo mancare, sono una serata importante e anche se si parla di dono, al compleanno si aspettano sempre dei doni, si può fare anche un dono. Farai un dono anche tu? Sì, certo, appena possibile, il mio impegno per donare, in ottobre devo aspettare perché ho avuto un bambino da poco, quindi tempo tecnico e poi sarò... Ti tipizzerai, diventerai parte della famiglia di Admo? Assolutamente sì. Ok, appunto anche con la mia visibilità di dare l'esempio, di coinvolgere anche altri giovani per questo importante passo, insomma.